baschettari in penitenzi o semplici nuovi appassionati bentornati ad in the paint puntata del lunedì puntata che precede la final eight di coppa italia una final eight di coppa italia che comincerà mercoledì andiamo subito a vedere quali saranno i il programma di mercoledì si comincerà con ea sette in polio armani milano germani brescia poi si concluderà il mercoledì alle 20 e 45 con carpegno procurato pesaro open john mattis barese nella giornata di giovedì invece alle ore 18 sarà la volta di virtus e caffredo bologna umana reier venezia per concludersi poi i quarti di finale con la sfida tra bertramioz tortona e dolomiti energia trentino tutte le gare saranno visibili sia sui event sports sia seuro sport che su di max in chiaro canale 52 del digitale terrestre le semifinali inoltre saranno visibili entrambe su di max mentre la finale dovrebbe andare in diretta sul 9 per le semifinali si giocherà sabato sempre 18 20 e 45 mentre alle 21 di domenica la finale andiamo invece a vedere quello che è successo nel campionato andiamo con i risultati nella giornata di nella serata di sabato nutri bullet treviso batte gevi napoli 85 82 bertram tortona già dominica alla canestro trieste 80 69 umana reier venezia carpegna prosciutto pesano 93 a 77 open john mattis varese ea settemore ormani milano 75 87 givova scafati dolomiti energia trentino 74 a 79 con parzialone e strascichi ne parleremo tra poco una hotel san reggio emilia virtus segafredo bologna 63 a 74 vittoria invece nettissima dell'epicasa brindisi 102 a 68 sulla tezenis verona blitz esterno del banco di sardegna sassari germani brescia banco di sardegna sassari 80 a 93 in classifica comandano ancora ea settemore ormani milano e virtus segafredo bologna 30 punti 28 punti invece per la bertram tortona a quota 22 nettamente staccata la carpegna prosciutto pesaro seguita da banco di sardegna sassari open john mattis varese dolomiti energia trentino e deppi casa brindisi a quota 20 a 18 invece stazione all'umana reier a venezia non ha posizione prima fuori dai playoff a 16 invece pallacanestro 3 sentri bullet treviso a 14 germani brescia givova scafati e napoli in zona retrocessione a quota 12 latte zenis verona e a quota 10 luna hotels reggio emilia andiamo partita per partita cominciamo dalla sfida della palaverde di villorba con treviso che resiste al ritorno di napoli e vince grazie soprattutto ai 21 punti di adrian banks bene però anche il giovanissimo classe 2004 leonardo fagian 13 punti per lui in 20 minuti 4 su 6 da 2 1 su 1 da 3 2 su 3 liberi 5 rimbalzi un assist per 16 di valutazione lo ricordiamo questo ragazzo che non ha ancora compiuto 20 anni anzi ne ha compiuto da poco appena 19 per quanto riguarda invece gli altri in campo bene anche paulius sorocas fattore quando è stato schierato da centro atifico 15 punti per lui 2 i rimbalzi catturati 2 le palle recuperate 19 di valutazione bene anche dare cook giocatore con la valigia in mano visto che era stato sostituito da ottavio sellis tuttavia l'infortunio suo e di i che iro e bu che hanno messo hanno creato problemi a marcello nicola hanno costretto ad utilizzare il giocatore nonostante la situazione contrattuale una prestazione davvero da grande professionista per dare cook va detto per lui 12 punti e 6 rimbalzi all'attivo bene anche il finlandese michael jantunen 17 punti e 6 rimbalzi per lui stiamo invece in casa napoli dove si vede per la prima volta il vero joe yang per lui 21 punti con 9 su 16 dal campo 72,7 da 2 soltanto 1 su 5 da 33 rimbalzi due assist 19 di valutazione in doppia cifra ci vanno anche giocatore williams 16 punti ad otto rimbalzi per lui jordan haward 11 punti con 4 su 12 dal campo ed anche elijah stewart 10 punti per lui ancora una volta venuto fuori nel quarto periodo ancora una volta capace di pareggiare i conti di riaprire totalmente la partita nel quarto periodo tuttavia non è bastato anche e soprattutto per i suoi problemi di falli per napoli deludono soprattutto deludio e soprattutto david miscino andiamo invece alla sfida della pala energica paolo ferraris di domenica alle ore 17 vittoria netta per la bertrand tortona che incanala la partita già nel primo quarto 25 16 di parziale per poi chiudere i conti già nella terza frazione di gioco con un 18 11 migliore in campo per la formazione di coach ramondino per quanto riguarda la fase realizzativa e leonardo candy 16 punti per lui con 4 su 6 dalla lunga distanza per valutazione però c'è la doppia doppia di leon radosevic 12 punti 11 rimbalzi per il tedesco di origini balcaniche bene anche l'altro lungo titolare tyler kane 12 punti ed 11 rimbalzi anche per lui stavolta però con 6 raccolti sotto il canestro avversario doppia cifra ci vanno anche mike dome con 14 punti ed ariel figlio era assente jp massiura andiamo invece al lo score di trieste migliore in campo per la formazione giuliana ancora una volta frank barclay 23 punti per lui seguito da frank gains 13 punti 36 punti in due per le due guardie tiratrici di coach marco legovic in doppia cifra ci va anche manuel terry che mette al referto una doppia doppia 10 punti e 10 rimbalzi andiamo alla sfida del taliercio la umana reier venezia festeggia l'arrivo del nuovo allenatore neven spaglia con una vittoria nettissima sulla carpegna prosciutto pesaro spazzata via già nel primo quarto con un parziale di 28 a 7 ci prova la formazione grepe a reagire in questa sfida tutta croata sulle panchine con un 30 20 di parziale e nel secondo quarto tuttavia non basta perché poi ancora una volta venezia mette al sicuro il risultato nel secondo nel secondo tempo resistendo anche tentativi di rimonta migliore in campo è jordan parks per lui 23 punti 9 rimbalzi e 26 di valutazione bene anche jason granger 20 punti per lui con tre rimbalzi e due assist per 24 di valutazione e più 25 di plus minus più 25 che condivide con dere quillis che sfiora la doppia doppia 16 punti e 9 rimbalzi al referto va bene anche marco spissu che sfiora la doppia doppia con 11 punti e 9 assist al referto per quanto riguarda pesaro non basta il solito ad un racman per lui 20 punti tre rimbalzi tre assist e cinque palle recuperate eppure non sono bastate in doppia cifra ci vanno anche quan citam 14 punti haralan populos 11 punti e matteo tambone 12 punti nella sfida di masnago invece vince l'olimpia milano 87 a 65 su una comunque buona varese che ha provato a mantenere un livello diverso dal punto di vista difensivo ma che paga le basse percentuali al tiro e dai liberi appena 8 su 13 61,5 per cento milano stravince l'incontro dal punto di vista del tiro pesante e dal punto di 50 per cento e armi in balzo 40 rimbalzi contro 34 di cui ben sette di cui sette comunque sotto il canestro avversario migliore in campo per i padroni di casa colby ross con 16 punti ed 11 assist sfiora la tripla doppia con i sette rimbalzi al referto 29 di valutazione per lui non basta però così come non bastano i 13 punti e 9 rimbalzi doppia doppia sfiorata di taric owens nei 13 punti di jaron johnson che aggiunge 5 rimbalzi e 6 assist per quanto riguarda invece milano bene ancora una volta brandon davis non perfetto a rimbalzo solo due le carambole catturate da lui ma in 14 minuti mette la sua firma 17 punti con 6 su 8 dal campo 5 su 6 è liberi bene anche l'uvavu kabago che in 27 minuti segna 16 punti raccoglie 4 rimbalzi e smazza due assist su in doppia cifra ci va anche l'esordiente shabazz napier 12 punti per lui con anche 8 assist al referto che fanno la contraltare alle 6 palle perse una sito una partita in cui fa e disfa a piacimento fanno riflettere però i pochi secondi concessi a davide al viti oggetto di voci di mercato che su infatti su lui sarebbero date verona e napoli appena pochi secondi dicevamo per il giocatore 0 invece i secondi in campo per paul biliga appena 4 per tonut una milano che sta puntando seriamente al campionato venendo sfuggire l'obiettivo eurolega andiamo ancora avanti con la sorpresa dal punto di vista del risultato finale se stiamo a vedere quello che era il risultato negli ultimi quattro minuti di gioco la giuova scafati gioca buoni tre quarti e mezzo dopo di che spegne la luce dal 74 a 63 passa al 74 69 parziale di 16 0 in cui per trento dominano il signor matteo spagnolo e il signor andres gragiuris mai in partita nel primo tempo nel quarto periodo si prendono la scena e sono assoluti protagonisti per spagnolo 15 punti 6 rimbalzi e 3 assist per 21 di valutazione per gragiuris 17 punti con 3 rimbalzi e 14 di valutazione 3 su 4 dalla lunga distanza sul meno 11 e lui a premere per mano la squadra e a riportarla prepotentemente in partita scena madre tripla a referto e subito dopo stoppata sul miglior realizzatore di scafati che david logan per logan 22 punti che non bastano a cambiare la sorte della formazione giallo blu ottima prestazione per thompson 13 punti ed 11 rimbalzi per lui per 19 di valutazione bene anche chris pinkins che sfiora la doppia doppia 10 punti ed otto rimbalzi ora però in casa scafati dove segnaliamo anche gli 11 punti di stone e gli 8 punti e 10 assist di clevin anna c'è qualcosa che non va il parziale di 16-0 incassato e pesantissimo una scafati che pensava probabilmente di aver vinto la partita se la vede strappare via da un avversario che ci ha creduto di più e sono esplose le contraddizioni perché nel post partita julian stone ha pubblicato una storia su instagram parlando senza fare nomi di qualcuno che non si prende le responsabilità che non che punta il dito e non si assume le responsabilità delle proprie decisioni ci ha tenuto a ribadire di essere sempre stata una persona con dei valori con dei valori di gruppo che ha messo sempre il gruppo davanti ai propri interessi e ha chiesto a chi parla alle spalle se al suo modo di dire di parlare in faccia perché lui ha già avuto modo di conoscere davvero a suo dire le dinamiche di conflitti nello spogliatoio la frecciata sembra diretta verso una persona lui si esprime al singolare infatti subito dopo precisa che non c'entrano i tifosi che ringrazia e a cui dice che è giusto averli fischiati dopo quel 16 0 subito ora scafati le acque sono molto agitate cinque sconfitte nelle ultime sei partite ed una situazione che davvero comincia ad essere un po torbida vedremo come verrà gestita andiamo ancora avanti con una notez reggio emilia virtus segafredo bologna vittoria per la virtus segafredo bologna nonostante l'assenza di coordiniere oggi legge nonostante scenghelia e belinelli restino fuori dal dal roster per questa settimana al referto per permettere loro di riposare dopo le gare in più giocate in eurolega minuti in più giocati in eurolega una virtus bologna che spazza via reggio emilia nel quarto periodo dopo un inizio in cui già aveva messo le cose in chiaro 26 17 resiste al tentativo disperato di rientro dei bianco rossi e poi piazza la zampata finale per reggio emilia miglior prestazione realizzativa è quella di sacar anima ventiquattro punti per lui con cinque su cinque dalla lunga distanza per cinciarini invece sette punti sette assist e sei rimbalzi in 33 minuti un cinciarini che veramente sta venendo spremuto oltre quelle oltre ogni ragionevole limite cinque punti anche per burjanazze nove per per il giovane di uff con 12 di valutazione insomma una reggio emilia che continua a palesare problemi problemi anche di rotazione perché vitali resta in panchina zero minuti per lui per quanto riguarda invece la virtus segapredo bologna miglior realizzatore e mohammadu jaitè doppia doppia a 13 punti ed 11 rimbalzi si fa vedere anche nico megnoni in 18 minuti confeziona una prestazione a 12 punti e tre su quattro dalla lunga distanza con quattro assist a condimento bene anche giorda micchi dieci punti e sei rimbalzi per lui in doppia cifra anche kyle wims 12 punti cinque rimbalzi per nonostante le tre stoppate subite bene anche mino seodosic che mette a referto undici punti con tre su cinque alla lunga distanza ed aggiunge anche quattro assist che non guastano mai nelle due gare della sera cominciamo dalla nettissima affermazione dell'epicasa brindisi che stronca nel quarto periodo ogni speranza per verona 32 9 il parziale del quarto periodo a coronamento di un break di 22 0 con il quale la stella del sud decide le sorti anzi tempo verona arriva sotto anche di 35 punti ormai venduta tra virgolette anzi non venduta ormai inerne davanti ai sette ai sei giocatori in doppia cifra di frank mitucci altri due che la sfiorano è una brindisi che è cambiata da quando è rientrato un signore che risponde al nome di d'angelo harrison per lui una partita normale due su sette dalla lunga distanza nove punti tre su quattro i liberi due rimbalzi un assist sei di valutazione plus minus più ventitré il secondo migliore di squadra dopo il più trentasette di jason barnell anche lui il capitano in grande svolvero 14 punti otto rimbalzi e tre assist miglior realizzatore marquis rid diciassette punti per lui a cui aggiunge due rimbalzi e due assist segnano in doppia cifra anche d'oro l'embre dieci punti nick perkins 12 punti e 5 rimbalzi e jonas risma 11 punti con tre su tre dalla lunga distanza è una brindisi che ha cambiato davvero faccia è il quarto successo consecutivo per la stella del sud per la squadra di coach frank vitucci che aveva detto in un momento difficile della stagione di voler lasciare un buon ricordo e di non volersi separare da sopportato ci sta riuscendo e ha trovato in d'angelo harrison e negli intangibles di danger di d'angelo harrison un alleato fondamentale ora brindisi e quinta non si era riuscito a qualificare alle final hit in casa verona invece esordio per davin davis appena rilasciato da napoli 14 punti e quattro rimbalzi per lui il miglior realizzatore ancora carmel anderson 13 punti anche se con due su otto dalla lunga distanza tira malissimo verona dalla lunga istanza 17,2 per cento in doppia cifra ci va anche cappelletti 12 punti per lui con anche 5 assist a referto così come taylor smith 11 punti e 7 rimbalzi per lui andiamo a concludere la giornata con il blitz esterno della dinamo sassari sul parcheggio di breccia una breccia che ci aveva creduto ad un certo punto prima di doversi arrendere 80 al 93 il risultato finale e non basta a breccia la prestazione da 18 punti ed otto rimbalzi di kenny gabriel né quella da 23 punti due rimbalzi tre assist quattro palle recuperate di amedeo della valle 25 di valgazione una di quelle prestazioni che l'anno scorso l'avevano portato al titolo di mvp fatica tantissimo breccia fatica perché taglio di ase fa solo tre su otto ai liberi ed uno su cinque dal campo segnando cinque punti alla fine fatica perché non trova i punti di cuono perché petrucelli nonostante i 16 punti è ancora un giocatore in evoluzione dopo il rientro all'infortunio alexei nikolic non dà l'apporto che si sperava massimburgo ridotto a due punti in 13 minuti per quanto riguarda coach alessandro magro ci sono tante tante cose da aggiustare forse troppe e forse c'è troppo poco tempo visto anche che la coppa italia con la sfida a milano incomme vittoria che sassari invece costruisce soprattutto dai 22 punti sei rimbalzi e cinque assist di chris dow gerald robinson rientra ma è ancora non al meglio cinque punti in 22 minuti 4 assist per lui ma intanto c'è un contorno che funziona perché se non è la serata di jamal jones e quella di stefano gentile 11 punti 3 su 4 da 3 per lui o quella di benjus 13 punti e 7 rimbalzi o anche quella di usman di hop 11 punti e 3 rimbalzi per lui 10 di valutazione andiamo a parlare dell mvp della serata non è quello che ha avuto la valutazione più alta ve lo diciamo subito ma il valore della partita che ha giocato merita il titolo di mvp e questo è andreis granulist il primo tempo sparisce dalla partita non c'è chiude però con 14 valutazione frutto di 17 punti 4 su 4 da 2 3 su 4 dalla lunga distanza 3 rimbalzi e tutto questo lo fa nel secondo tempo un secondo tempo in cui sul meno 11 riscatta la dolomiti energia trentino partita che lui vince e trova una grande collaborazione in matteo spagnolo ma suonare la carica l'ultimo ad arrendersi è proprio il lettore ex trieste in nba invece solo due le gare disputate nel nottata vittorio per i boston celtics sui memphis grizzlies 119 109 grazie soprattutto ai 23 punti di derrick white che raggiunge anche 10 assist in una serata in cui erano assenti tra gli altri markel brown scusatemi eh jalen brown per una frattura facciale e jason tatum tenuto a riposo non bastano ai grizzlies 25 punti di jamorant vittoria di misura invece per il toronto ratters sui detroit pistons 119 a 118 grazie soprattutto ai 35 punti ed 8 assist di fred van vliet in classifica andiamo in maniera telegrafica adesso comandano i boston celtics zona playoff che si completa con il walkie bucks philadelphia 76ers trival and cavaliers brooklyn nets miami it attenzione perché i boston celtics superano quota 40 vittorie sono ora a 41 la striscia positiva più importante è quella dei bucks 10 consecutive ed è ancora aperta in zona plane troviamo new york knicks planta hawks washington with the set toronto raptors fuori in questo momento chicago bulls indiana pacers orlando magic staccati detroit pistons e charlotte hornets che pensano alla corsa a victor wambagnama al prossimo draft attenzione invece in western conference dove i denver nuggets sono leader sempre più solidi al primo posto 39 vittorie 18 sconfitte seguono i memphis griswis i sacramento kings i dallas mavericks che hanno perso nella prima insieme di luca doncice e carrie irving i phoenix suns e los angeles clippers in zona plane si attestano new orleans pelicans minnesota timberwolves golden state warriors oklahoma city thunder uta jazz portland train blazers e los angeles lakers inseguono alla ricerca di un posto nei plane totalmente staccate invece san antonio spurs e houston rockets questi ultimi con il peggior record della rega mentre la peggior striscia aperta è quella dei san antonio spurs dodici sconfitte consecutive come la scorsa puntata continuiamo con il recap di quelle che sono le squadre dopo la trade deadline continuiamo alla dall'undicesima squadra in questa seconda puntata e parliamo degli houston rockets squadra ovviamente votata al tanking kevin porter jr playmaker gelin green nello spot di guardia tari ison alla piccola jabari smith alla grande ed al peren sangun nel centro i nuovi arrivi però sono tutti in panchina frank kaminsky dash nicks justin holiday danny green john wall attenzione perché john wall potrebbe essere rilasciato con un buyout indiana pacers che invece essono uguali nel quintetto aliburton nembert bady hild aaron nesmith e my star ma aggiungono in panchina sergi baka georgie e jordan nuora operazioni molto marginali cambia invece il playmaker titolare nei clip nei clippers perché arriva bones highland si accompagna paul george cauli leonard marcus morris e rizza zubac ma attenzione perché in caso di buyout da parte degli utages potrebbero puntare sul ritorno a los angeles ma dall'altra sfonda di russell westbrook ne aveva parlato paul george in altri cambi in panchina ci sono meso plumley e derrick gordon attenzione invece ai lakers che hanno cambiato tantissimo intorno alle brown james che resta nello spot di alla piccola ma intorno avrà oltre al solito anthony davis d'angelo russell malic bisley e rui acimura per visi un ritorno così come per russell in quella di los angeles e sfonda giallo viola attenzione anche in panchina sono arrivati davo reed e jared vanderbilt i memphis grizzlies invece restano sostanzialmente invariati l'unico cambio è in panchina con l'arrivo di luke kennard si è parlato però di un interessamento dei memphis grizzlies per kevin durant un interessamento che poi non è fruttato ma sembravano disposti a offrire tutte tutte le scelte possibili e prime scelte possibili per ottenere il giocatore che era dei nets in casa miami it anche qui operazioni molto marginali nulla da rassegnare perché sostanzialmente si sono mosse cash considerations non ci sono nuovi arrivi milwaukee bucks che invece si sono rinforzati in panchina l'arrivo è quello di jay crowder in una blockbuster trade in cui c'era dentro anche durante i brooklyn nets hanno poi passato i diritti di jay crowder ai milwaukee bucks i minnesota timberwolves invece cambiano con mike collie nello spot di playmaker a posto di d'angelo russell arriva anche niquel alexander walker una squadra quella di minnesota che sembra incredibile in estate ha dato molto più in quanto ad asset per rudy gobert di quanto i fenix hans abbiano dato per kevin durant piccole curiosità da vedere i pelicans invece cambiano solamente qualcosa in panchina josh richardson è l'ultima eh aggiunta la brutta notizia però è che c'è stata una ricaduta nell'infortunio a zion williamson per cui verrà valutato tra qualche settimana sembra quasi che possa finire la sua stagione chiudiamo questa seconda tranche con i new york knicks che hanno un'aggiunta importante e questa è josh art la guardia procedente da dai portano trailblazers e prodotto dell'università di villanova così come jalen branson si è unita e anche con ottimi risultati alla prima gara al roster di coach tom tibodò non ci sono altri cambi sostanziali in questa trade deadline per dei mix che provano a costruire mattoncino dopo mattoncino il prezzo di josh art è stato tra gli altri cam reddish noi vi ringraziamo di averci seguito vi diamo appuntamento alla prossima puntata di mercoledì dove cominceremo a trattare la coppa italia più a fondo sempre qui sempre sul parker in the paint ciao a tutti